Ragazzi mi sono confuso, chiedo perdono, mi sembravano troppo forti questi giocatori qui e quindi niente, giochiamo contro il Manchester City, ultima partita di oggi per quanto riguarda questa Master League, le formazioni sono già state fatte e niente, andiamo a incontrare questi altri qua sconfitta con il Watford, una sconfitta che non ci andava, non ci andava proprio però la classifica è molto corta, molto bella, comunque se io non dovessi vincere dai fake cup non dovessi qualificarmi per Europa League o Champions League vado dall'altra parte eccoci, mamma mia, andiamo subito a giocare contro queste colossali leoni d'Inghilterra Figueroa, Lanetz, Lanetz ammanza, qui c'è il fallo, gamba piena da parte di Nielsen diciamo che contro una squadra così anche un pareggio per noi che arriviamo da una promozione bellissima potrebbe andare bene, Rodrik, mette in mezzo bravissimo Tremarco, si è appoggiato vediamo ma che fallo Fischi, ma che fallo è quello lì vabbè attenzione a Lanetz che partirà col calcio di punizione partellane, bellissimo, bravo, guardate, adesso l'ha messo giù così, però Tremarco, dobbiamo assolutamente vincere, porca miseria, magari, Thompson una delle cenerentole di questa Premier League di Menez bravo, li hai subito pronto a raccogliere Kobayastro, pallone adesso a Nielsen la gira è sporcato il passaggio soldato, Gabriel Jesus che ha giocato pure in Italia Veronica Dimo di merezze attenzione a Gabriel Jesus eh, hanno un'altra marcia potrà fare merezze, mette in mezzo colpo di testo di Menez, che esce fuori e poi attenzione che ruba palla a Thompson e lancia Welbeck mamma mia eh, giovane, deve ancora farsi Welbeck lancia in avanti Thompson ancora recupera ancora Coventry bravissimi Gli Aich bello il tunnel per Welbeck manda forse Müller no riesce Grant ah bel rinvio Grant sui piedi mamma mia Lanetz pop off soldato e gli portano via palla molto bene bravo Gimenez andiamo si appoggia su Nielsen Gli Aich Gli Aich gira palla qui per Thompson una finta che però cerca troppo contro un colosso così comunque andiamo avanti attenzione chiude Gimenez bravissimo tre Marco Nielsen Touré manca Diallo non era era troppo affaticato pallone a Müller Müller c'è dall'altra parte di Nielsen appoggia per Gli Aich che arriva parte il tiro ma scivola 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 Grant ma Rez scappa via il pallone poi sbaglia l'appoggio strano da lui Touré Touré manda gli Aich la gira tocca adesso qui per Welbeck a sua volta indietro dobbiamo ragionare dai che c'è gli Aich libero gli Aich ancora tiene palla e c'è fallo attenzione attenzione fallo sugli Aich dai e dai gli Aich parte gli Aich il tiro deviato dalla barriera e sarà calcio d'angolo doveva alzarla leggermente di più sarebbe forse andata dentro allora noi chiamiamo due ricevitori così portiamo via un po' di uomini dall'aria guardate e gli Aich va a battere l'angolo e va a cercare la testa di Tremarco esce Grant e blocca vicino al gol diciamo per lo meno un'azione pericolosa l'ha creata fino adesso il Coventry ancora qui Müller Müller pallone in profondità per gli Aich stop e tiro Grant bellissimo Müller grande bravo l'ho messo che mi faccia a movimento quindi senza ordini particolari mandiamo un pochettino scatto apriamo leggermente di più visto che prima ce l'ha presa gli Aich va a battere in mezzo Müller non gli arriva aveva pronta la battuta al volo ancora Müller appoggia indietro per lo scarico di Ture e gran tiro fuori gioco di Welbeck netto e calcio di pulizione per Grant con il City che si prepara ad un'altra azione rilancio davanti arriva Ture immenso mamma quanto cazzo è forte Welbeck ancora Welbeck bravissimo pallone stop mette in mezzo astuta la finta del centrale del City e poi Lopez la stava combinando bella ha disorientato gli Aich Grant Bellis Marez ancora il City attenzione all'1-2 tra Soldado e Gabi e Jesus lo va ancora a cercare invece no allarga da questa parte per Marez Marez fallo uscire fallo uscire mamma mia attenzione ancora il tiro al giro mamma mia ragazzi quando attaccano fanno paura dobbiamo tenere il pareggio cercare almeno di portare a casa un punto non sarebbe male Kobayansky prima palla per lui può avanzare sto zitto sto zitto è meglio è meglio perché se no stavolta veramente altro che strike Ture bella pallone a Müller Müller lancia Welbeck Davido Lopez Lanias Davido Lopez partita molto lenta si è abbassato abbastanza lo script poi valuteremo nelle altre partite come sarà Davido Lopez ancora pallone Lainez vedete in mezzo attenzione soldato soldato bravissimo Kobayansky poi Gimenez cambia addirittura gioco pallone Thompson non c'è abbastanza profondità attenzione bella palla per Welbeck la tiene la tiene giù aspetta l'inserimento di Iach finta ma che errore la difesa del City qua che errore mamma mia guardate ha lasciato andare gli Iach come un coltello nel burro ha sbagliato il difensore centrale non era messo bene mamma mia non ci credo che dopo il City dopo lo United di FK adesso il City il Campionato sarebbe un unplend davvero d'oro questo però attenzione Popov no bravi a non raddoppiare ancora City Popov attenzione Thompson non riesce a disabilitare il tiro la deviazione della palla devo dire che è diventato più ragionato questo dopo e c'è una munizione per l'Ice calcio d'angolo ma c'è adesso di andare adesso di andare adesso attacchiamo adesso attacchiamo ma vai a cagare ma che fallo è quello lì ma dai ma dai sembra un po' come Glick tutte le volte che tocca l'avversario long e fallo metto in mezzo sfila il pallone che sfila liscio come nel mare in primavera attenzione con ste palle dritte tu re che lancia in avanti colpo di testa poi bellis nobler finisce 1 a 0 in caso di city per ora guardiola avrà da guardare bene questa squadra inizia il secondo tempo sarebbe la seconda sconfitta consecutiva per il city guarda turè attenzione attenzione che entra al con mi sembrava strano tre marco pallone adesso a questa parte turè può avanzare centrocampo è sbagliato è qui però sbaglia l'appoggio deve chiudere lo fa bene il giocatore kobajski lunga la palla niente ferma poco poi line niente palla lunga siamo già al cinquantesimo rimessa per il covent turè fa andare forse troppo lenta questa palla attenzione ai buchi qui in mezzo ma grandissimo questo tre marco qui è fallo arbitro niente c'era un fallo di nobler non ce l'ha fischiato attenzione poco lascialo venire questo lo fischia però incredibile incredibile sti arbitraggi Rodri bravissimo Gianni che adesso può far andare avanti la squadra attenzione con Muller Muller webeck 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 mette in mezzo Muller aspettate che ha suonato la porta ciao ciao ok qui e va qui è l'unica è l'unica fa ah quanto è qui ah Buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate, guardate, appoggia, attenzione Popo, cinquantasettesimo c'è ancora da soffrire, noble, noble, Rodri, Marezzi. Pallone in questa parte, Popo non riesci a ragionare e gli portiamo via la palla ancora? No, ma perché sbagliamo queste cose? C'era il contropiede, Welbeck, Welbeck la tiene bene, bravissimo e poi grande intuizione, fa andare Müller, Müller, Müller e niente da fare. No, non fareste cose, Bellis, Figueroa, Rodri, recupera ancora il City, sta salendo bene con Marez, attenzione, palla allargata, gran palla qui per Popo. Lainez, niente da fare, finta, va via, no, 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 manovra questo calcio di condizioni. Weld Smith, Gran Parate, Gimenez, Pallone Kobayanski e poi sbagliamo però qui eh. Attenzione deve chiudere Touré, mamma mia, mamma mia, ho più parole per definire questo qua. Müller fa andare adesso Welbeck, attenzione non c'è nessuno risponda. Dai Nielsen e svegliati però, c'era Müller che andava in mezzo. Eh qui Nielsen, ragazzi scusate no, non sta andando bene e dobbiamo assolutamente cambiarlo, mettiamo di allo e spostiamo Thompson da questa parte. Rilanci in avanti ma come sta sbagliando il sito, attenzione, lasciamo respirare. Tremarco deve seguire Marez. Attenzione a Marez, mette in mezzo, è grande. No, ma ragazzi, io veramente, giudicate voi perché, cioè, signori, ha fatto la diagonale sul Kun e mi fischi il fallo, ma fammi vedere. Ha alzato la gamba, ha fatto qualcosa, ma che fallo, eh? L'ha anticipato. No, ragazzi, no, 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 non serve più. Attenzione a Marez. Parte il tiro, la barriera e poi non mi ne sul fallo. E la palla dove va? Tu l'attaccante. Le vedete anche voi, no? Ste schifezze di sto gioco di merda. È così. Guardate. Ma perché non può andare dritta? Guardate, guardate. Vaffanculo, va, vaffanculo, va, gioco di merda. Gioco di merda, basta. Bon, su sta cosa è un gioco di merda, niente da fare. Cazzo, ti fai il culo, difendi bene e poi per una puttanata così. Dai, andiamo, facciamogli subito il 2, niente. Eh, ma adesso questi segneranno 2 a 1, sicuro. Ah, che spalle però quando c'è ste cose, ti passa la voglia di giocare quando vedi ste cose qua. Possibile che non può andare dritta, tutte le volte va sui piedi degli attaccanti. Ma io, nella realtà, non è così, eh? Ma adesso, mette in mezzo. Gimenez, bravissimo. Attenzione, però teniamo almeno il pari che se fanno 2 a 1 non la recuperiamo alcune. Deviazione, 2 a 1. No, giudicate voi come abbiamo perso questa partita, eh? Magari segnavano lo stesso. Cioè, non lo so, io non c'è più da dire, veramente, guardate. Magari segnavano lo stesso, per carità, però. Eh, entra Cancelo, che c'era Inez. Andiamo, proviamo a fare anche noi un cambio, eh? Cosa volete che vi dica? Eh? Bene. Non me li mette più come... niente. Ok, allora andiamo a togliere. Abbiamo ancora due sostituzioni. Abbiamo dentro Pazzini e Ferreira. Deludente Müller nelle ultime partite qua, chiaramente, è giovane. Il giocatore non si discute nella realtà, assolutamente, ma qua è giovane, non si può pretendere che subito... Bel lancio di Thompson, col contagiri pazzini, eh? Niente da fare, non è veloce. Comunque, abbiamo perso. Script gameplay 2, Coventry 1, eh? Avete visto con i vostri occhi? Falli che non ci sono. Era in netto anticipo, gli dà la punizione. Fanculo, va, Cristo. Gioco di merda, porca troia. È un gioco di merda e basta. Andiamo, Pazzini. Andiamo, pazzo. Andiamo, andiamo. Il tiro... niente. Niente, non c'è possibilità. Non c'è possibilità. Ancora amarezza. Abbiamo perso pure questa, immeritatamente, perché, ripeto, avete visto cosa succede nello script. Gioco del cazzo, porca puttana... Dai. Eh, madonna mia. Che siano anche più forti. Non ne metto in dubbio, ma quando si mettono queste cose qui, ragazzi. Viene veramente voglio non giocarci più. Guarda, eh, dai, vai avanti questo pallone. Dai, dai. Bravo, Pazzini. Dai, dai. Proviamoci fino all'ultimo. Madonna, vai, coba, non c'è nessuno. Mettila bene, eh. Mesa e mezzo. Tiro il suo lupo. Partita. Script, gameplay, gioco di merda, 2. Coventry, 1. Ragazzi, ci salutiamo qua. Mi è passata la voglia. Boh, fine. Andiamo, andiamo. Vediamo la classifica. Porca puttana. Capisco che lo United non può andare in championship come la Juve, come il Milan, la Roma, l'Inter, la Lazio. Ma regalargli i punti così, cioè, mi sembra un po', eh, insomma. Vabbè. In niente, ragazzi, ci salutiamo qua e ci rivedremo poi alla prossima. Ciao. Che sarà Call West Ham. Registrerò quella Call West Ham. Ciao, ciao.